Sono ottimista, speriamo di sì, perché Conte per noi è fondamentale per tenere questa maggioranza coesa e unita. Di fatto, considerando che i numeri degli europeisti con Renzi in maggioranza non saranno di fatto rilevanti, quale sarà il vostro ruolo a questo punto? L'errore qua è pensare che noi abbiamo fatto un'operazione per sostituire qualcuno. Questa operazione rafforza la maggioranza, lo vedrete nei numeri se questo governo parte. Quindi noi non veniamo a sostituire nessuno, veniamo a rafforzare questa maggioranza che avrà numeri per andare avanti due anni con certa tranquillità, soprattutto al Senato. Anche con Renzi di nuovo in maggioranza, secondo lei? Penso di sì. La stabilità è garantita con Renzi oppure inaffidabile? La stabilità è garantita da tutti, il passato divide, il futuro unisce, pensiamo al futuro e cerchiamo di risolvere i problemi reali degli italiani, che oggi sono la pandemia e la crisi economica. Ma anche il MES, che su quello le divisioni rimangono, bisognerà fare un contratto di governo piuttosto serrato? Vediamo, lì lavoreranno i tecnici, i nostri parlamentari e vediamo come si riesce a trovare un accordo. Se c'è volontà politica, tutto l'altro lo possiamo riuscire a fare. La cosa importante qua è che ci sia la volontà politica. Sembrerebbe che c'è. Voi per settimane comunque avete ribadito che i numeri del vostro gruppo potevano di fatto aumentare. C'è qualcuno che si è tirato indietro, si è perso tempo? Per quale motivo di fatto il gruppo europeista di fatto non è aumentato di numero così come auspicava? Ma noi non facciamo una corsa ai numeri. Il gruppo sicuramente aumenterà. Però adesso stiamo cercando di tranquillizzare tutto, tutti, prima di cercare questo accordo e questa volontà politica condivisa. Ci sarà un secondo giro di consultazioni? Questo lo informerà il Presidente Fico.